Buonasera, benvenuti tutti alla prima di queste presentazioni virtuali della mostra che abbiamo organizzato Maggiolini & Co. Vuole essere una mostra che presenta la produzione, chiaramente da piccola parte, con una rappresentanza di mobili della produzione di Maggiolini agli inizi dell'Ottocento, della sua bottega, e una presentazione allegata di alcune opere di alcuni dei suoi allievi e contemporanei, che hanno utilizzato il suo stile dell'intarsio all'interno di un gusto neoclassico nella produzione ancora fine settecentesca e ottocentesca, superando un po' quello che era lo schema di gusto ornamentale che l'epoca impero-napoleonica imponeva un po' a tutte le realtà di produzione non solo nazionale ma a livello europeo. Vediamo un attimino, allora noi sappiamo benissimo tutti che la produzione principale, la più importante, più famosa di Maggiolini è la produzione della fine del Settecento, anche se lui produce, opera anche in epoca Rococodi, è il livello chiaramente molto eccellente, però è in epoca Ferdinandea che Giuseppe Maggiolini dà il meglio di sé, grazie soprattutto alla collaborazione, la possibilità di lavorare a stretto contatto con alcuni architetti che lavoravano ai cantieri arciducali a Milano, quello che è oggi Palazzo Reale, oppure anche al Palazzo Reale di Monza, a stretto contatto, ripeto, con queste persone come Giocondo Albertolli ma ancora prima Agostino Gerli e tra l'altro anche la possibilità di avere l'appoggio e l'aiuto, l'assistenza di alcuni pittori dell'epoca che furono poi pittori eccellenti, quale Levati piuttosto che Lappiani. In quell'epoca riesce a creare con il loro aiuto delle produzioni di altissimo livello, si pensi ad esempio al caso famoso elencato nelle cronache dell'epoca in cui alla fine della produzione della commode Serra per il Marchese Serra di Genova, questo a indicare anche la fama che aveva al di fuori di Milano Maggiolini, quel commode che viene prodotto è talmente bello, talmente ricco, che la comunità cittadina decide di esporlo all'interno del cortile del Palazzo Borromeo perché i cittadini di Milano potessero andare a vederlo. In un certo senso viene elevato ad artista questo produttore che nient'altro è che in realtà un ebanista che attende ad una bottega ben organizzata e corposa, che in quegli anni segue non solo la produzione di mobili, di mobili importanti, i doni che l'Arceduca fa alla madre piuttosto che ad altri parenti in tutta Italia, ma attende anche la produzione dei pavimenti, degli intarsi, dei parquet e quindi una bottega molto organizzata che è abituata a produrre parecchio. In una sua lettera che viene, che manda alla società patriottica in quegli anni, lui scrive e parla di una ventina di allievi che nella sua bottega si formano alla pratica dell'intarsio e poi vedremo nei prossimi giorni alcuni di questi allievi. Cosa succede? Quando l'Arceduca è costretto ad andarsene da Milano con le invasioni napoleoniche, ci sono una serie di anni in cui la bottega non ha più gli incarichi importanti e nobili che aveva avuto fino a quel tempo. Inizia a ripartire fondamentalmente con qualche commessa un po' più interessante agli inizi dell'Ottocento, quando con la preparazione per l'incoronazione di Napoleone, quale re d'Italia, Melzi dei Rili inizia a richiedere a Maggiolini la realizzazione di alcuni arredi per riarredare e rimpostare l'arredamento di Palazzo Reale. È anche una commessa numerosa, vengono ordinati centinaio di tavolini da gioco, ad esempio. Quindi la bottega si riorganizza, riorganizza una produzione molto raffinata e accurata, ma che inizia a diventare in parte ripetitiva, perché appunto viene prodotta una grossa quantità di mobili e modifica un attimino quello che era il gusto albertogliano, quello che era il gusto dell'epoca dei lumini milanesi, dove la partitura, la composizione di disegno era molto complessa e quindi avevamo delle mandorle, degli esagoni, dei triangoli, tutti pieni, rimpiti e arricchiti da intarsio. All'inizio dell'Ottocento, come possiamo vedere ad esempio su questi mobili, si svuotano un po' le superfici di quella ricchezza di cornice e di intarsi. Gli intarsi principali vengono centralizzati all'interno della parte centrale degli spazi e vediamo questo bellissimo motivo all'interno della facciata, oppure sul piano, come in questi comò, e si concentrano nella parte centrale. Questo perché il gusto impero aveva tolto quella che era l'arricchimento degli intarsi dai mobili. Nel gusto francese era prevalente la presenza del mogano. In Italia, a Milano, Maggiolini utilizzerà legni esotici, anche il mogano, ad esempio per i due famosi comò che produce per Napoleone, ma utilizza anche, soprattutto laddove la committenza non poteva permettersi di pagare i costi di legni esotici, utilizza moltissimo, come vediamo in questi mobili, l'uso di noce molto venato ed altri legni anche proprio italiani e che ritrovava nella nostra terra. In questo caso vi presento questo gruppo di arredi. Come vedete, due comò e un comodino. La produzione, la qualità dell'intarsio è sempre altissima. Le tessere sono sposate con una precisione particolare e direi singolare. Solo lui riesce, solo la sua bottega riesce a produrre e realizzare una qualità di questo tipo nell'ambito lombardo. La disposizione ci presenta una disposizione che è sapiente di quello che è l'esperienza e quindi a livello architettonico ci sono alcuni dettagli all'interno di questi arredi e una composizione che rende armonici chiaramente le realizzazioni e i risultati finali. Come vi dicevo, abbiamo raccolto qui una coppia di comodini, un comò e questo gruppo, che hanno tutti la caratteristica di avere dei disegni che all'interno di quella che è la raccolta dei disegni di Maggiolini sono tutti databili intorno ai primi anni dell'Ottocento. Voi sapete, per chi non lo sa, lo racconto un attimino, che è la fortunata vicenda della bottega di Maggiolini che si chiude nel 1834 con la morte del figlio. Cosa succede? Che a quell'epoca tutta la collezione di disegni, la raccolta di disegni, almeno una grossa parte, 2000 disegni, viene data in eredità grazie a Cherubino Mezzanzanica che era il figlio dotato di Carlo Francesco Maggiolini, viene poi venduta e arriva a Milano nella Fondazione Bertarelli e oggi è conservata al Castello Sforzesco di Milano. Quindi noi abbiamo a disposizione circa 2000 disegni che ci permettono di riconoscere la produzione e talvolta, come in questo caso, di avere alcune indicazioni aggiuntive sulla committenza o su quella che si può supporre essere la committenza dei mobili. In questo caso, sui disegni che abbiamo presentato poi in mostra, che si potranno vedere anche sul sito perché metteremo le foto, abbiamo una serie di disegni che indicano la produzione di questi mobili dove c'è un riferimento chiaro e preciso ad una commessa fatta per i bianchi d'Adda nel 1804. Ed è curioso perché nella gran parte di questi disegni viene proprio indiciato per il fianco dello sciffone, che sarebbe il comodino in dialetto milanese, per il fianco del sciffone piuttosto che per il piano e quindi la cosa interessante e curiosa di questa raccolta di disegni è quella che ci permette di approfondire, di arrivare a meno di ipotizzare con una certa certezza quella che era la commettenza di origine della produzione di questi arredi. La fortuna della bottega di Maggiolini proseguì anche dopo la morte di Giuseppe grazie al lavoro del figlio Carlo Francesco che ereditò il mestiere del padre e del nipote adottivo Cherubino Mezzanzanica. La fortuna della produzione post Giuseppe Maggiolini della nuova generazione maggioriniana è dovuta grazie al permanere all'interno della bottega dei disegni utilizzati dallo stesso Giuseppe come modello per gli intarsi realizzati all'interno della sua bottega. La produzione sotto Carlo Francesco e Cherubino Mezzanzanica infatti proseguì fino al 1834 con la morte di Carlo Francesco e i disegni nel 1882 furono venduti e fortunatamente furono acquistati dal comune di Milano e tutt'oggi sono presso le collezioni civiche. Un esempio di questa produzione di Carlo Francesco Maggiolini è questo Secreterre. Infatti l'intarsio mostra dei riscontri puntuali con alcuni dei disegni che sono conservati presso il fondo Maggiolini. In particolar modo dei riscontri sono possibili per l'intarsio che orna la greca nella fascia sottopiano ma anche sono presenti dei disegni che ripropongono l'intarsio che invece è presente sulle candelabre. Anche l'intarsio al centro dell'anta in particolar modo le specie floreali che sono qui rappresentate sono riproposte in vari disegni, in vari studi sempre riscontrabili che si possono ritrovare all'interno dei disegni del fondo Maggiolini. Quindi questo intarsio mostra delle forti influenze un richiamo con quella che è la produzione soprattutto dell'inizio del XIX secolo ma mostra già un gusto avanzato infatti rispetto ai mobili realizzati da Giuseppe Maggiolini si nota soprattutto nell'intarsio dell'anta un gusto più tardo quasi come se questo vaso di fiori fluttuasse un po' al centro dell'anta. Ovviamente l'intarsio da solo i riscontri con il disegno di Maggiolini non bastano per giustificare l'attribuzione di questo secretare a Carlo Francesco ma anche l'architettura del mobile stesso e la parte costruttiva l'alta qualità con la quale è stato realizzato questo mobile ci confermano che invece appartiene alla fortunata bottega. L'architettura del mobile infatti è sì più tarda databile nella seconda metà del secondo decennio del secolo quindi palesa già un gusto tardo impero ma presenta al suo interno dei meccanismi a molla e dei segreti che trovano invece riscontro con quella che è la produzione maggioliniana di Giuseppe. Grazie a tutti.